Buongiorno a tutti, ringrazio di questo invito. Io appunto sono Paola Zanini, la referente per le attività di laboratorio del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. Vi porto ovviamente i saluti di Anna Pironti che è la responsabile capo del Dipartimento Educazione e che è colei che ha creato, inventato, fatto nascere il Dipartimento Educazione nel Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli e che oggi appunto non è qui perché ha avuto dei problemi di salute ma peraltro lei essendo di origine pugliese ci avrebbe anche tenuto molto a essere presente ma ci siamo anche già detti che ci saranno altre occasioni. Io ho portato ovviamente quella che è la nostra esperienza rispetto al lavoro che da sempre il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli realizza all'interno del museo anche perché il Dipartimento nasce contestualmente la nascita del Castello di Rivoli quindi nel 1984. Anna era presente nel museo, lei è peraltro una magnifica memoria storica di tutto quello che è stata la genesi del Castello di Rivoli e delle prime esposizioni che lo hanno segnato come primo museo d'arte contemporanea in Italia. Io ovviamente vi ho portato un po' di immagini perché mi sembrava interessante partire dal contesto nostro specifico è chiaro che poi ogni realtà vive il suo territorio rispetto al suo territorio ha quelle che sono i suoi elementi, i suoi monumenti da poter usare, utilizzare, da poter appunto in qualche modo far diventare luoghi in cui la cultura può prendere vita perché in realtà l'idea appunto del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli di Anna Pironti è proprio la possibilità di vedere il museo come un qualcosa che assolutamente non ha i limiti, non ha mura ma è un museo aperto che si apre e si apre ovviamente come dire a tutti i diversi pubblici, a tutte quelle persone che hanno voglia di andare al museo ma e questa è abbastanza la nostra specificità, a noi piace pensare che quelli che sono i contenuti specifici dell'arte contemporanea perché questa sarebbe la nostra, perdonatemi la parola, la nostra mission sarebbe come dire appunto il nostro dettato portare i contenuti dell'arte contemporanea anche in contesti più diversi ma la cosa che appunto a noi interessa è proprio portare la nostra esperienza rispetto all'arte contemporanea nei diversi contesti, nei tanti contesti, quindi uscire dal museo, portare la nostra esperienza per poter condividere esperienze che poi diventano appunto azioni, operazioni, diventano dei vissuti che noi speriamo appunto possano anche rimanere ed eventualmente generare altre azioni e altre situazioni nei diversi territori, quindi sostanzialmente il nostro lavoro, adesso vi faccio vedere appunto alcune immagini come dicevo del castello di Rivoli che peraltro è un'incompiuta, noi viviamo appunto in queste due strutture che sono la parte castello che è la parte settecentesca che era stata progettata da Filippo Juvarra per essere una grande reggia, addirittura lui parlava di una comparazione rispetto a Versailles quindi non ci sono state le economie per questioni appunto economiche, politiche, strategiche e tutto a un certo punto la costruzione si è fermata, quindi questo è un terzo di quello che era il progetto di Filippo Juvarra che peraltro aveva previsto anche tutta una serie di scale, scaloni, prospettici che correvano intorno al castello e quindi questa struttura che insomma ha delle parti, a molte parti ancora in mattone vivo, non è particolarmente finita, in realtà questo non finito è diventata un po' come dire la nostra, mi verrebbe da dire, fortuna nel senso che in questa struttura che a questo punto ci parla di un desiderio, il desiderio del re di abitarla e soprattutto di far dimostrare dimostrare quella che era la sua forza e la sua potenza, in realtà noi viviamo in questa struttura che guarda, ne guarda un'altra che è la Manica Lunga, la Manica Lunga invece che peraltro sembra la parte più moderna e invece un'architettura del 1600 che veniva smantellata man mano per costruire il castello del 700 di Filippo Iuvarra perché ovviamente non c'era una concezione storica di mantenere quello che appunto faceva parte del passato ma c'era invece una voglia di rinnovare, rinnovarsi e soprattutto c'era anche un fatto insomma di nuovo di compensare le economie per cui veniva riutilizzato lo stesso materiale per costruire il nuovo edificio. I lavori si interrompono a metà appunto del 1700 per cui il progetto a quel punto si ridimensiona, diventa una sorta di residenza estiva, viene anche minimamente abitato e così si salvano le due architetture che convivono. Ovviamente c'è un passaggio giusto l'altro giorno, accompagnavamo degli ospiti che ci dicevano ma adesso per tornare perché appunto c'è la parte di cassa che è dalla parte della Manicalunga e che ha una serie di servizi peraltro al suo interno quindi non solo al terzo piano le esposizioni temporanee ma appunto alla caffetteria, c'è la biblioteca, c'è una sala multimediale e dall'altra parte invece appunto mi dicevano pioveva ma dobbiamo uscire per andare dall'altra parte, sì non ci sono passaggi segreti, non abbiamo fatto tunnel o cunicoli, peraltro del restauro del castello di Rivoli si è occupato Andrea Bruno che è appunto un architetto che ancora oggi porta come esempio a livello internazionale, lui porta costantemente l'esempio del castello, della ristrutturazione del castello di Rivoli ci porta costantemente studenti da tutto il mondo perché lui peraltro continua appunto a insegnare e proprio perché c'è stata una volontà molto forte peraltro lui era un giovane studente che a un certo punto decide di salvare questa struttura che era già stata usata per gli usi più diversi addirittura in manica lunga e lì insomma mi verrebbe da dire meno male sono stati anche ospitati gli sfollati del Vermont quindi come dire gli usi erano i più diversi fino ad essere utilizzato come casino e allora il degrado iniziava ad essere forte ed evidente la struttura però era importante e quindi lui da giovane architetto ha realizzato questo progetto pensandolo appunto non solo come una residenza storica da restaurare e ristrutturare ma dando già come dire una funzione espositiva e quindi di museo alla struttura al tutto quindi in questo senso lui ha avuto una visione molto importante in appunto in un momento in cui effettivamente in Italia non esisteva un museo d'arte contemporanea quindi come dicevo nel 1984 apre il primo museo d'arte contemporanea peraltro come dire la notizia ha fatto il giro del mondo ci sono stati più grandi artisti viventi contemporanei che hanno esposto il castello di rivoli realizzando opere in situ portando lavori che potessero dialogare con gli spazi del museo che ovviamente vivono in una struttura che è anche un sito storico quindi in questo senso c'è stata una vera e propria interazione con gli spazi interni ed esterni della struttura del sito storico in questo caso particolare questo è il lavoro di luciano fabbro che rincontreremo più avanti su un altro progetto che ha realizzato quest'opera dedicata a Paolo Uccello peraltro appunto alla battaglia di San Romano noi avendo questa collaborazione con il Louvre a Parigi di cui vi parlerò più avanti ci siamo ovviamente imbattute nel quadro in una delle tre tavole che Paolo Uccello ha realizzato nel 1438 ed effettivamente questa possibilità nel contemporaneo di ritrovarsi nell'atrio aperto del castello di rivoli questa prima struttura sospesa quindi voi ci potete anche passare sotto vi potete anche fermare soffermare sotto questa struttura che ovviamente è in metallo che si compone di queste due cornici sospese sono due quadrati la struttura è molto semplice di per sé però in realtà lui fa come dire un altro passo che è quello da una parte di riportarci nel passato di riportarci però a un artista importante importante non soltanto perché un grande pittore esecutore che ha rappresentato un certo periodo storico legato appunto alla tecnica ma soprattutto per la questione invece legata a quello che lo ha portato poi come esempio nella storia dell'arte quindi la possibilità di utilizzare la prospettiva non in modo convenzionale per far sì che appunto si potessero avere più punti di vista e si potesse soprattutto utilizzarla in maniera assolutamente innovativa non a caso lui inserisce all'interno di questa sua installazione degli elementi che sono appunto una verticale ma anche un punto di vista che è un punto di vista che lui va a inserire sono ovviamente anche loro sospesi ma sono appunto non sono punti fissi quindi questo punto di vista è sempre in movimento peraltro noi siamo sulla collina morenica e quindi anche un posto molto areggiato quindi spesso abbiamo un forte vento che pulisce anche l'aria quindi un bellissimo forte vento e che quindi crea questo effetto di battaglia quindi c'è anche una sonorità legata a questo lavoro e c'è la possibilità come vi dicevo che esattamente la volontà dell'artista che è stata quella appunto di Luciano Fabro di darci i tanti punti di vista per lui era importante guardare il mondo come se fosse in controluce come se fosse appunto ci fosse la possibilità ogni tanto di guardarlo dall'alto guardarlo dal basso, guardarlo dai tanti punti proprio perché gli artisti da sempre ma poi gli artisti contemporanei forse in maniera più consapevole più consapevole perché appunto consci di cosa è stato il passato in qualche modo ci danno ci aprono costantemente una serie di questioni e spesso non ci vogliono dare risposte ma questo non perché le risposte non ci sono, non le hanno ma proprio perché invece il lavoro importante che costantemente loro fanno e che costantemente interessa anche a noi probabilmente fare è quello di porre tutta una serie di questioni, di domande proprio per appunto aprirsi alla costante ricerca alla costante possibilità che ci possiamo dare di fare esperienza quindi se avessimo invece le risposte ci faremmo bastare quelle e forse ci chiuderemmo appunto le famose prospettive che invece Luciano Fabro accogliendoci nell'atro del Castello di Rivoli vuole invece rimarcare quindi in questo senso come vedete io vi sto parlando di un artista assolutamente contemporaneo anche se lui è mancato e quindi non è vivente ma come dire insieme a lui noi possiamo fare un salto nel passato d'altronde un altro grande artista contemporaneo che è Yannis Cunellis da sempre ci dice che appunto noi non ci possiamo dimenticare nel nostro passato perché il nostro passato è la costruzione della nostra storia ma dall'altra parte non possiamo negare il presente quindi anche in questo senso chi varca la soglia del Castello di Rivo li sa che troverà anche un frammento di passato anche importante peraltro l'architetto Andrea Bruno ha realizzato appunto un restauro assolutamente non di intervento ma conservativo e quindi tutto quello che è storico che appunto è stato assolutamente conservato e valorizzato e tutta quella parte che invece assolutamente non aveva porti storici è stata in qualche modo invece appunto realizzata e ristrutturata in maniera tale che potesse diventare luogo espositivo come vedete le opere vivono nelle sale del museo noi abbiamo una collezione permanente che ovviamente non viene esposta nella sua contemporaneità perché a oggi i lavori che fanno parte della nostra collezione sono molti però appunto abbiamo la possibilità di farli ruotare quindi quando si dice vado a vedere la collezione permanente del Castello di Rivo sappiate che non è così mobile non è così statica per cui appunto vale sempre la pena invece di venire perché ci sono spesso invece cambiamenti ci sono anche come dire messi a punto di percorsi all'interno delle sale dialoghi tra opere di artisti o sale dedicate esclusivamente ad un unico artista in modo da fare appunto un'esperienza completa e più totalizzante di quell'opera e di quell'artista nel caso appunto del papavero di Clisoldenburg anche in questo caso c'è uno straniamento di trovarsi questo oggetto assolutamente soradimensionato e peraltro in una sala che è la sala neoclassica che è una di quelle che è stata appunto poi nel tempo rimaneggiata quindi siamo già più verso l'ottocento che quindi anche lei ha ovviamente dei vincoli anche rispetto alla sovrintendenza sul fatto che non si possono appendere cose alle pareti quindi vedete che poi si trova sempre come dire la giusta via di mezzo per poter comunque essere spazio espositivo senza andare a deturpare quelle che sono invece le parti storiche della sala e quindi in generale del museo ma ci sono anche sale invece assolutamente non stuccate, non decorate come in questo caso questo è il salone del secondo piano appunto di questa meravigliosa volta la sonorità è anche questa importante e incredibile qui si vede poco perché in questo caso la foto è legata appunto a un momento nel museo in cui questa sala era allestita con un lavoro di Olafur Eliasson che lavora sulla percezione dove come dire l'elemento luminoso è sempre presente ma c'è un altro elemento che deve essere sempre presente nei lavori di Olafur Eliasson che interagisce prima di tutto ovviamente con questo spazio con questa volta padiglione con il fatto che appunto lui fa crea con un meccanismo molto semplice quest'idea di costellazioni che in qualche modo appunto va di sistema solare che si va a esplicare nella sala quindi ci sono questi fasci luminosi che costantemente attraversano lo spazio di quella sala ma l'opera non avrebbe nessun senso di esistere se non ci fosse l'interazione con il visitatore con lo spettatore all'interno della sala che quindi come dire completa e mette in atto l'elemento percettivo che lui è andato a stimolare per cui anche in questo caso per me era importante mostrarvi questa immagine proprio perché diventa fondamentale appunto per molti artisti contemporanei l'interazione con il visitatore quindi con la possibilità che ciascuno si deve dare di fare esperienza anche solo nell'osservare l'opera poi noi appunto non ci fermiamo a questo perché la cosa che poi diventa lo scatto ulteriore è proprio la possibilità che ci diamo come vi dicevo prima la mappa non ve la sto a commentare nei dettagli perché appunto non voglio far sfollare la sala ma come potete vedere abbiamo fatto anche questo gioco cromatico tra l'arancia e il verde per mettere in evidenza il fatto che sia nella parte in museo che nella parte fuori museo in realtà le nostre attività sono vedete abbastanza equilibrate abbiamo molte attività in museo e molte attività fuori dal museo in primis quello che a noi interessa fare ed è per questo anche che io sono molto contenta di essere qui con voi quest'oggi è proprio legata alla formazione alla formazione che ovviamente noi offriamo al corpo docente agli insegnanti di tutti gli ordini e i gradi ma che ovviamente per noi poi non non ha non ha vincoli e non ha selezione per cui tutte le persone che hanno voglia e questo sta anche all'interno dei programmi dell'UNESCO del lifelong learning ha voglia di fare formazione durante tutto l'arco della vita per noi questa sarebbe come dire la condizione ideale quello che peraltro continuiamo a fare anche noi non solo perché le mostre al museo si rinnovano e noi di volta in volta appunto abbiamo una serie di proposte che facciamo nel museo per il museo per chi viene a trovarci al castello di Rivoli e ha voglia appunto di interagire e lavorare con noi ma anche appunto per poter portare la cultura dell'arte contemporanea in esterno e quindi fuori dal museo come potete vedere per noi è importante realizzare una serie di progetti educativi che possano anche toccare un po' tutte le fasce ci interessa anche molto scardinare l'idea che i dipartimenti educazione dei musei lavorano esclusivamente con la fascia dei piccoli ma questo non perché li vogliamo discriminare anzi ovviamente a noi piace dire che esattamente come per i giochi di società lavoriamo da 0 a 99 nel senso che appunto lavoriamo con i bimbi dalla fascia del nido fino ad arrivare alle università della terza età ci piace pensare che per tutti il museo è accessibile in tutte le sue accezioni ovviamente e quindi in questo caso ci piace lavorare sia nel tempo scuola ma anche nel tempo libero sia nel appunto nel tempo libero dei singoli ma anche delle famiglie ma anche appunto dei gruppi organizzati in esterno peraltro appunto vedremo poi man mano accompagnati da una serie di immagini alcune dei progetti delle manifestazioni a cui abbiamo partecipato perché appunto ho dovuto fare una selezione peraltro quando prima vi dicevo che poi ciascuno a partire dal proprio territorio probabilmente chi lavora nel campo della cultura o della formazione è tenuto a far sì che poi questi possano essere elementi che diventano appunto patrimonio comune che mi sembra che sia lo sforzo che stiamo facendo tutti qui presenti su un territorio anche insomma vasto e non sempre propizio vi ho portato appunto anche l'esperienza di Zona Arte Zona Arte nasce nel 2010 la Fondazione per l'Arte in Piemonte CRT che fino a quel momento aveva finanziato i musei nel senso che acquistava acquisiva le opere perché potessero essere collezione sia del Castello di Rivoli che della gamma di Torino ha pensato che forse poteva destinare un po' di queste risorse per invece promuovere progetti e questo io l'ho trovato anche molto interessante ovviamente anche in quel caso insomma abbiamo dovuto un po' far notare che all'interno dei musei che va benissimo che siano come dire luoghi dell'esposizione della conservazione delle opere i musei però se esattamente come abbiamo visto prima per Olafur Eliasson senza il pubblico quell'opera è bella interessante importante significativa ma rimarrebbero dei cerchi di luce che corrono in uno spazio quindi lo stesso artista sa che in mancanza del pubblico dei pubblici delle persone quindi di noi perché non possiamo sempre far finta che noi siamo da un'altra parte quindi di tutti noi questo non sarebbe possibile quindi la cosa che invece diventa importante è proprio il fatto di poter appunto interagire di poter fare diventare questi contenuti esperienza e di poter fare rete la fondazione per l'arte in Piemonte quindi scopre che all'interno dei musei esistono i dipartimenti educazione che questi dipartimenti non lavorano esclusivamente con la fascia dei piccoli ma lavorano con tutti i pubblici e quindi ci chiedono di diventare rete quindi noi abbiamo un sistema d'arte d'arte contemporanea in Piemonte che è abbastanza ricco e diffuso e disteso quindi ci siamo associati le sei istituzioni che si occupano di questo per poter programmare tutti insieme delle attività le diverse istituzioni sono ovviamente noi il Dipartimento di Educazione Castello di Rivoli il PAV il Padiglione d'Arte Vivente che è la fondazione di Piero Gilardi la fondazione Merz la fondazione San Dettore Rebaudengo che in questo caso appunto collabora un po' più a lato la la città dell'arte la fondazione Pistoletto di Biella e la GAM di Torino spero di averli detti tutti se no qualcuno non sarà felice e qua siamo tutti dentro un tavolo alla fondazione Merz la fondazione Merz peraltro appunto vive all'interno di un edificio che era una fabbrica e quindi di nuovo appunto sono questi luoghi che non nascono spesso nello specifico per essere luoghi espositivi mi verrebbe anche di dire meno male nel senso che così vuol dire che non c'è non ci sono luoghi nuovi che nascono appositamente non si sa dove ma c'è la possibilità invece di ristrutturare di far rivivere luoghi che comunque sono stati abitati e vissuti anche se poi appunto l'utilizzo è stato un altro la fondazione Merz quindi Beatrice Merz ci ha dato la possibilità nel 2010 avendo per un'intera settimana la fondazione libera senza mostra in corso di poterla far vivere e animare in qualche modo e quindi noi i sei dipartimenti abbiamo realizzato un programma anche molto vasto molto ricco le nostre famiglie pensavano noi fossimo in trasferta anche se eravamo tutti a Torino perché non ci hanno più visti per una settimana dal lunedì alla domenica avevamo anche un crociato un ponte tipo il primo maggio quindi abbiamo fatto tutto tutti i giorni senza sospendere nulla al mattino primo pomeriggio ovviamente avevamo le attività per le classi dal primo pomeriggio metà pomeriggio avevamo la formazione insegnanti tardo pomeriggio una serie di tavole rotonde per chi voleva partecipare e invece in serata c'era un convivio perché abbiamo pensato che poi se le persone in qualche modo bevono mangiano insomma c'è questo momento di condivisione anche piacevole possono poi continuare a parlarsi di che cosa è stata la giornata e quindi di questioni poi anche importanti interessanti legati appunto alla cultura in genere quindi non erano solo incontri specifici legati all'educazione all'arte ma dell'arte e della cultura si occupavano in senso molto ampio noi stiamo dentro questo tavolo sia perché Mario Merza ha realizzato nel suo lavoro una serie di tavoli perché appunto il tavolo è anche la storia della terra elevata è la possibilità che si dà all'uomo come dire appunto dalla natura di diventare anche cultura il tavolo diventa ovviamente il luogo del convivio il tavolo diventa il luogo della condivisione e anche della consapevolezza lui le realizza in forma di spirale perché Mario Merza appunto è noto per questi per questi elementi spiralici che in realtà sono poi la traduzione visiva della sequenza di Fibonacci e quindi appunto di questa proliferazione che nasce in natura ma in realtà diventa formula matematica ma che poi diventa appunto anche geometria e quindi in realtà è come dire l'energia che può proliferare all'infinito poi l'energia della natura che quindi genera un'energia buona positiva e soprattutto di crescita e dall'altra parte appunto visto che poi spesso le sue tavole erano anche imbandite perché lui realizzava questa sorta di nature morte sopra questi tavoli infatti anche lì spesso e volentieri di vetro quindi superfici anche trasparenti che prendevano vita grazie a fascine piuttosto che appunto ad elementi vegetali a frutta a verdura e noi abbiamo pensato di fargli questo era una delle serate di chiusura di fargli questo omaggio e di fare appunto di costruire una tavola cromatica quindi non solo abbiamo selezionato questo cibo per appunto il profumo il gusto ma l'abbiamo anche selezionato per la sua cromia per il suo colore quindi c'è dal bianco al nero insomma il colore più scuro e quindi poi ovviamente però non è stato solo un oggetto da guardare da osservare ma da partecipare perché questo per noi è fondamentale il fatto che poi si possa realmente essere partecipi di un'azione di come dire del 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 farsi e quindi vedete questo convivio all'interno della fondazione Mertz e vi assicuro che anche tutto quello che apparentemente doveva rimanere sul tavolo perché non era mangiabile perché bisognava in qualche modo cuocerlo lavorarlo no tutto tutto portato via diciamo a un certo punto tutto portato via anche perché appunto la fondazione Mertz è all'interno anche di un di un quartiere anche popolare di persone che normalmente non entrano in fondazione perché non fa parte appunto della loro cultura anzi forse fino a quel punto la vedevano anche come qualcosa di molto al di fuori dal loro mondo e quindi pochissimo frequentate sicuramente guardate anche un po' con sospetto invece a quel punto sono entrate hanno avuto voglia di interagire si sono fatti dire si sono fatti spiegare e quindi noi abbiamo la certezza che dal 2010 la fondazione Mertz è molto più frequentata e sempre da sempre frequentata ma più frequentata da chi abita quel territorio esattamente che quello che poi in realtà abbiamo anche realizzato noi al castello di Rivoli Anna Pieronti in primis il fatto che è vero che la notizia che davano i giornali era che appunto anche Liberation diceva dava la notizia di questo importantissimo museo d'arte contemporanea come prima in Italia ma se Anna non avesse deciso che noi non dovevamo rimanere appunto un'astronave piombata sulla città di Rivoli questo saremmo rimasti a oggi quindi il grosso lavoro che è stato fatto all'inizio è stato proprio quello di lavorare col territorio a oggi noi abbiamo tutte le scuole di Rivoli e ovviamente insomma visto che l'accordo è con la città con il comune le scuole comunali in realtà noi accogliamo tutte le scuole di Rivoli fino anche alle medie superiori all'interno di questa convenzione per cui accedono gratuitamente al museo e hanno la possibilità di fare di realizzare una serie di esperienze di percorsi peraltro è un po' di anni che anche rispetto alla festa della pace piuttosto che altre manifestazioni che li vedono coinvolti in maniera corale noi facciamo in modo che il museo sia presente perché queste non siano soltanto appunto andiamo in piazza per cantare la canzoncina in modo un po' confuso e ce ne torniamo in classe ma l'idea appunto è quella invece di lavorare sul senso delle cose e di entrare un po' più nel merito e di fare in modo che poi arrivati in piazza si possa fare di nuovo un'esperienza corale tutti insieme quindi questo è un po' il senso anche del nostro lavoro fare un lavoro è stato appunto quello di fare qualcosa sul territorio in modo da fidelizzare il museo al territorio con Anna siamo andate appunto per cinque anni in una scuola elementare e abbiamo seguito questi bimbi dalla prima alla quinta elementare ma per otto anni invece in contemporanea siamo andati dai bimbi di tre anni li abbiamo seguiti poi fino alla quinta elementare e questo appunto faceva sempre parte di questa primissima sperimentazione io lo spazio e la luce che è diventata questo progetto appunto di imparare con l'arte proprio perché di nuovo diventava anche importante poter inserire all'interno della quotidianità della scuola pratiche le pratiche artistiche contemporanee che poi in realtà di nuovo non erano cose assolutamente piombate dall'alto incomprensibili ma erano proprio invece molto legate al quotidiano per cui lo spazio e la luce perché io metto in gioco il mio corpo nella percezione dello spazio per poter fare esperienza del mondo quindi in realtà appunto noi abbiamo semplicemente ma questo lo vedremo quando incroceremo questo nostro progetto del tappeto volante in cui vengono riprese in pratica le pratiche che sia nelle scuole materne che nelle scuole elementari i bambini i ragazzi fanno ma che poi appunto hanno un grado di consapevolezza minore se invece appunto non si aggiungono i quei contenuti che per noi sono importanti che arrivano dall'esperienza dell'arte l'esperienza dell'arte che è sempre varia e diversa quindi noi ogni giorno abbiamo proposto attività le più diverse questa è uno degli esempi di serigrafia più relegate alla serigrafia e in questo caso specifico invece stiamo realizzando delle sedute delle sedie utilizzando dei quotidiani ma anche questo noi lo incontreremo più avanti quindi vi farò uno spot specifico su questo lavoro vedete ragazzi in questo caso più che una sedia sono passati direttamente all'asdraio e quello è un lavoro molto bello anche perché appunto noi pensate che la prima volta che abbiamo realizzato questo laboratorio abbiamo fatto questa attività l'abbiamo realizzata con dei manager a cui abbiamo dovuto spiegare che visto che loro erano all'interno di una seduta stavamo realizzando delle sedute peraltro con i soli 24 ore che loro solitamente utilizzavano per altro questa ad esempio è una modalità che noi usiamo spesso e volentieri che vedrete abbastanza nelle nostre immagini che è quella dell'azione di pittura collettiva che ovviamente nasce dal fatto che abbiamo incontrato per nostra fortuna l'artista Keith Haring che peraltro in questo momento è presente a Parigi con una mostra bellissima e Keith Haring appunto dava questa possibilità di suddividere uno spazio con il segno nero erano forme anche astratte assolutamente astratte dava a ciascuno un pennello e un colore e dava la possibilità di campire di gestirsi il proprio spazio con questo pennello con il suo pennello ciascuno il suo pennello ciascuno il suo colore ovviamente facendo in modo che non ci fossero spazi con colori con colori uguali confinanti per cui mai un rosso vicino a un rosso proprio per creare un'interazione perché ci fosse sempre netta come dire la percezione visiva che quello spazio era il mio spazio e quello vicino era un altro spazio realizzato da un'altra persona con un altro colore e questa pratica noi continuiamo ad attuarlo ovviamente nelle infinite possibilità perché poi non è rifare l'opera o il lavoro dell'artista ma è partire dalla suggestione dall'idea dell'artista per poi appunto continuare a svilupparla e fare in modo che si possa continuare a fare esperienza legata a quello che lui a quelli che erano i suoi contenuti di base quindi la possibilità di coinvolgere le persone in un linguaggio assolutamente condivisibile qua siamo nella parte esterna noi abbiamo usato anche molto l'esterno della fondazione MERS perché si presta e abbiamo realizzato anche molti tappeti che come vedete sono intrecciati li incontriamo anche più avanti che come base hanno la rete da cantiere perché di nuovo noi partiamo da qualcosa di assolutamente esistente stoffa sono stracci abbiamo intrecciato anche plastica abbiamo intrecciato anche carta abbiamo intrecciato anche manifesti abbiamo intrecciato immagini abbiamo intrecciato qualsiasi cosa anche perché c'è stato un momento della nostra vita che ci siamo occupate con questo progetto di rete territoriale che si chiamava tessere arte di tutto quello che poteva essere appunto la simbologia della tessitura anche la mitologia legata alla tessitura che di nuovo fa parte della nostra storia fino ad arrivare invece a quello che è la tessitura per molti territori anche per quello piemontese può essere una risorsa nel senso che appunto come dire una risorsa reale concreta e quindi un elemento culturale importante di nuovo da salvaguardare vedete le nostre tavole rotonde erano molto rotonde nel senso che il tavolo non c'era ma era a disposizione delle sedute un po' nascosto perché è piccolissimo abbiamo persino Michelangelo Pistoletto che solitamente tiene il cappello ma così mi potevo dire il signore col cappello in realtà il signore il signore lassù tutto di nero col cappello grigio bianco e la barba però insomma non ha importanza tanto lo vedremo più avanti Michelangelo nel senso che appunto queste tavole rotonde avevano anche artisti importanti c'erano anche critici c'erano anche persone appunto del mondo della cultura arrivate un po' da tutta Italia ma anche dall'estero e poi c'era pubblico c'erano tutte le persone che avevano voglia di interagire con noi e chiaramente c'erano anche degli interventi c'erano degli argomenti specifici ma poi tutti erano invitati a intervenire perché si apriva un dibattito ne approfitto per dire che invece appunto io vado anche avanti il lavoro è tantissimo però se invece voi avete delle domande delle questioni delle perplessità se avete degli abbiocchi voi me lo dite e così io mi regolo anche perché appunto la questione dell'attenzione non è solo dei piccoli cioè tutti credo a un certo punto l'attenzione un po' cala un po' ricresce insomma quindi voi me lo dite e quindi queste nostre tavole rotonde erano realmente partecipate e ogni giorno affrontavano un argomento diverso e ci siamo resi conto che poi appunto esattamente come io mi trovo qui perché c'è una volontà di poter informare e soprattutto poter essere partecipi di realtà che sono e che arrivano da altri luoghi io vorrei che appunto fosse percepito in questo modo cioè non ho tanto il problema di dire quante cose importanti o belle può aver fatto il Dipartimento di Educazione Castello di Rivoli ma mi piacerebbe veramente che passasse l'idea che le possibilità sono veramente tantissime che ciascun territorio ha le sue risorse è chiaro che bisogna perché non è stato facile noi abbiamo un Dipartimento di Educazione Anna Pironti poteva decidere che era lei da sola e al museo sarebbe andato benissimo quindi poteva prendere le telefonate le prenotazioni gestire forse anche appunto una cooperativa esterna anche di persone che neanche incontrava a cui affidava il servizio invece Anna ha pensato che è partita da sola col valigino come dice sempre lei e ha esplorato prima il territorio quello vicino ha esplorato il territorio nazionale il territorio internazionale per capire che cosa c'era rispetto all'educazione soprattutto l'educazione all'arte contemporanea e si è resa conto che appunto ciascuno aveva delle sue metodologie aveva anche dei maestri importanti vedi uno fra tutti insomma Bruno Munari però per me era importante io vent'anni fa l'ho anche incrociato Bruno Munari in un convegno e deve aver pensato che ero un po' squilibrata perché appunto io gli andavo a portare insomma questo lavoro assolutamente innovativo legato all'arte contemporanea e quindi mi hanno detto più che un intervento sembra una performance ho detto Dio mia cosa avranno pensato questi mostri sacri perché ce n'erano una serie però per me era importante per Anna Pironti era importante poter invece trovare una metodologia che forse non aveva metodo nel senso che appunto noi pubblichiamo anche molto poco perché abbiamo sempre paura che le nostre esperienze possano essere prese come delle ricette anche perché Anna Pironti che cucina perdonatemi la digressione molto bene mi passa anche le ricette e me le spiega anche ogni tanto facciamo anche qualcosa insieme ma io vestico poi a casa non è la stessa cosa non mi vengono mai belle le torte come le fa lei e quindi non è vero che appunto poi tutto può essere preso diventerà una ricetta perché ma perché banalmente ciascuno di noi deve fare come dire la sua esperienza la sua formazione ed essere consapevole appunto della sua progettazione quindi a quel punto diventa qualcosa che in cui si crede veramente che si è vissuto e quindi viene percepito in questo modo anche da chi lo realizza quindi questo è fondamentale per noi come modalità quindi il non avere metodo è proprio nel dire che appunto noi partiamo da quelli che sono appunto le suggestioni i contenuti le situazioni e da lì cerchiamo di capire come possiamo interagire poi ovviamente insomma il metodo c'è nel senso che noi non prenscindiamo dai contenuti dell'arte contemporanea però appunto nelle tante infinite declinazioni questi sono momenti di laboratorio sempre la fondazione Mertz questo è uno dei tappeti terminati però anche lì si intreccia il tappeto ma poi il tappeto non viene posato e ci salutiamo il tappeto viene trasportato viene portato in giro si va in processione ciascuno ne tiene un pezzo cioè diventa anche un modo di nuovo intanto per rendere partecipi anche perché noi eravamo in contemporanea alle sue fondazioni realizzare attività diverse quindi non tutti facevano tutto anche perché appunto non dobbiamo essere per forza bulimici l'importante è fare un'esperienza e però così questo invece era un modo poi di nuovo per coinvolgere tutte le persone presenti tutti i ragazzi presenti in un'azione corale poi lo si portava sotto il logo di zona arte per dare di nuovo se non solo per fare la foto per dire eravamo lì ed era zona arte ma per dar senso appunto di partecipazione al lavoro vedete poi sotto il tappeto poi voi lo sapete meglio di me che l'intreccio il tessere la tessitura sono metafore appunto di racconto narrazione e il textum è la possibilità che da sempre l'uomo si è dato appunto di raccontare narrare e soprattutto anche lì di nuovo di far rete quindi siamo a noi piace più quella reale di quella diciamo del web ma ci stiamo anche lì emancipando giustamente perché è anche giusto arrivare a tutti anche su quella rete che è più virtuale in questo caso stiamo realizzando con l'alluminio un terzo paradiso ma del terzo paradiso avremo modo di vedere lo scibile oggi pomeriggio e questo è terminato noi in questo caso abbiamo fatto un omaggio a Michelangelo Pistoletto e questo appunto è in qualche modo quello che è il progetto su cui lui sta maggiormente lavorando in questo momento proprio perché come vi dicevo prima gli artisti hanno anche spesso una grande generosità cioè il fatto di regalarci come in questo caso un segno simbolo che non esisteva perché lui ha inserito un'ansa all'interno del segno dell'infinito e che se già il segno dell'infinito ha un suo senso però appunto lui ha creato intanto più circolarità più movimento ha inserito questa sorta di ventre materno di pancia più grande degli altri due cerchi perché se il primo paradiso era il paradiso naturale l'altro paradiso è quello che ci siamo costruiti che però appunto adesso è andato un po' a degenerare perché non stiamo più fermando è il paradiso artificiale lui appunto auspica la possibilità che questi due paradisi possano in qualche modo invece tornare a convivere e tornare a trovare un equilibrio ci chiede anche di annunciare la nostra rinuncia però appunto ne parleremo più approfonditamente oggi pomeriggio perché poi lui nel giorno del 21-12 2012 dove dovevamo forse finire poi in realtà si è continuato lui invece festeggiava in tutto il mondo insieme a noi il giorno della rinascita quindi lui ha creato questa Rebirth Day che ovviamente lui perché Michelangelo giustamente è una persona seria non vuole che questo Rebirth sia iniziato abbia trovato però come dire una sua pace con il 21-12 2012 perché il 21-12 si ripeterà sempre come si è ripetuto prima perché il sostizio d'inverno il giorno del sostizio d'inverno si festeggia da sempre e perché per lui è importante invece che ciascuno prenda un impegno e che non sia legato appunto a quell'unica data e quindi questo terzo paradiso continuerà a vivere con noi e anche ad accrescere senso perché arriverà sempre a più persone peraltro nello specifico noi avevamo inserito all'interno qui siamo invece già alla gamma perché dal 2010 la fondazione ospitante era la fondazione Mertz nel 2011 la fondazione che appunto ha fatto da capogruppo era la gamma di Torino la galleria civica e l'anno scorso invece appunto abbiamo fatto noi come Castello di Rivo nel 2012 quest'anno abbiamo passato il testimone al PAV al padiglione d'arte vivente nello caso specifico peraltro noi avendo realizzato questo grosso progetto che vi toccherà di vedere tutto che è il progetto Italia abbiamo lavorato appunto abbiamo esibito le immagini del progetto Italia ma poi abbiamo anche lavorato su questi souvenir di tali perché poi in realtà appunto sulla silhouette dei monumenti presi da tutta Italia noi abbiamo fatto una serie di lavori proprio perché ci piaceva pensare che poi in realtà visto che non ci possiamo per fortuna portare via le cose che vediamo però ci devono rimanere in testa ed è per questo che loro poi le indossano ma non sono corone sono appunto quello che mi rimane in testa come visione delle cose che ho visto di nuovo intrecciamo ma in questo caso intrecciamo qualcosa di particolare anche perché in GAM abbiamo individuato una serie di percorsi ovviamente perché siamo collegati alle opere degli artisti c'era questo quadro di Tancredi a proposito di Venezia quindi lui ci parla di Venezia e noi ci troviamo davanti anche lì un dipinto che poi un tessuto che poi un intreccio che poi è una suggestione di colore quindi atmosfera e quindi a proposito di Venezia ne abbiamo realizzato anche all'interno della GAM questa Italia tessuta e quindi è sempre la base rete da cantiere ma la forma è quella dello stivale perché noi su questo stivale abbiamo veramente realizzato nel 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia 150 itali in 150 piazze l'abbiamo fatto personalmente non abbiamo delegato nessuno ed è stato interessante anche banalmente arrivare nei posti perché ci sono dei posti in Italia che appunto ce lo dicevamo anche ieri sera non tutti i luoghi hanno delle stazioni degli aeroporti ci sono luoghi che anche nel nord-est dell'Italia vi assicuro abbiamo preso molti molti treni per arrivarci abbiamo fatto viaggi interessanti ma anche faticosi perché appunto questa Italia unita unificata nel 150esimo ha ancora molto lavoro da fare per unificarsi per sentirsi una unica e quindi unita quindi ci è piaciuto perché siamo riusciti appunto a realizzare questo viaggio peraltro perché il comitato Italia il primo comitato per i festeggiamenti si era formato a Torino e essendo formato anche da persone che noi in qualche modo conoscevamo ci hanno chiamate sapendo che appunto per noi la piazza è un luogo importante ci hanno chiamato per proporre un progetto giustamente Anna Pironti dice io il progetto ce l'ho perché se siamo nel 150esimo traduciamo un dato storico in un dato reale noi realizzeremo 150 piazze in 150 luoghi e quindi ci hanno detto va bene allora fateci il progetto presentateci un preventivo impossibile se avessimo presentato il preventivo ci dicevano bellissimo progetto rivederci grazie quindi noi non abbiamo presentato nessun preventivo ovviamente abbiamo chiesto loro di agevolare dove era possibile relazioni reti che peraltro in realtà appunto abbiamo abbastanza condiviso perché noi possedavamo già una buona rete a livello nazionale che però è cresciuta poi vi farò vedere le faccio solo vedere però appunto due pagine di rete e la cosa interessante appunto è stata la sfida in realtà la sfida perché noi abbiamo concordato ovviamente abbiamo cominciato con una formazione una grossa formazione e abbiamo fatto in modo che poi appunto in ogni città in cui siamo stati ci fosse un momento comunque di formazione nel luogo di presentazione poi di azione in modo che tutti potessero essere informati e soprattutto in modo tale che poi potessero uscire rispetto a quel luogo le caratteristiche di quel luogo che l'Italia potesse essere rappresentative di quella piazza di quella città e quindi potesse essere realmente vissuta e partecipata quindi qui ho messo la scheda ma banalmente appunto per farvi vedere che noi abbiamo messo in gioco quelli che erano appunto i contenuti specifici vi dicevo prima il dato storico relazionati però all'esperienza dell'arte contemporanea metodologia come sempre per noi teorico pratica abbiamo preso in considerazione peraltro tutti quegli artisti che da sempre hanno fatto parte della nostra collezione della collezione permanente che hanno lavorato sulla forma geografica dell'Italia che però non è lavorare solo su una forma ma anche su un contenuto e siamo partiti un po' prima nel 2009 abbiamo finito terminato nel 2011 e abbiamo realizzato appunto come dicevo prima incontri conferenze eventi il concept peraltro vedete che il progetto Italia è il dittongo proprio perché ci piaceva di nuovo intanto ribadire il dato storico e poi appunto in qualche modo sottolineare di questa Italia rispetto alle Itali e le tante Itali e anche la possibilità che poi appunto il dittongo ci porta al plurale non rimanga solo singolare nell'accezione in cui appunto se la storia segna i confini l'arte dà senso al territorio perché gli dà sostanza o almeno lo può fare e quindi abbiamo lavorato appunto su questo segno e su questa forma quindi sulla possibilità che se partiamo da un dato che è quello geografico in realtà che appunto ci indica la posizione nello spazio della Terra però noi sappiamo che si può prendere in considerazione si possono prendere in considerazione le cause naturali antropologiche che di fatto hanno determinato conformazioni e denominazioni nelle varie accezioni fisica umana ed economica ma non starò a leggere questa frase invece ve la leggo perché la geografia e la descrizione della Terra così da secoli si ripete ma non è così perché nel frattempo ci si è dimenticati della cosa più importante che proprio attraverso questa descrizione il mondo viene ridotto alla Terra la Terra la sua superficie quest'ultima ad una tavola tale definizione implica quindi una triplice trasformazione su questa trasformazione Alighiero Boetti ha molto lavorato sull'idea di geografia e soprattutto sull'idea di geografia allargata perché lui ha preso un cosiddetto tutto il mondo nel 71 peraltro lui incontra l'Afghanistan e se ne è in amore quindi farà diversi viaggi addirittura apra un albergo insomma vivrà molto in questa terra e coinvolgerà una serie di tessitrici afghane per realizzare questi che non sono dipinti ma sono arazzi e darà anche spesso e volentieri la possibilità a queste persone di non essere soltanto mera forza lavoro ma di essere riconosciute perché gli dà anche volto e quindi fa sì come dire che poi le persone non siano soltanto come dire uno strumento per realizzare l'opera ma diventino appunto protagoniste perché in qualche modo poi vanno a interpretare il cartone il disegno dell'artista appunto sulla questione della riproducibilità di questo elemento geografico lui ha molto lavorato segnando i diversi territori nei tanti momenti storici utilizzando ovviamente anche vedete la simbologia ulteriore della bandiera con tutte le sue implicazioni con tutte le sue diversificazioni in base al momento storico preciso e con l'intorno poi sempre appunto andando a dire esattamente in che momento si trovava in che periodo si stava vivendo quindi non solo a Lighiro Boetti ma l'intero mondo fino ad arrivare invece più nello specifico come zoomata all'Italia in questo caso si tratta del manifesto di Love Difference che è uno dei progetti che Michelangelo Pistoletto porta avanti da tempo e vedete poi anche lì sarà un caso a Michelangelo non abbiamo mai chiesto ma la banda nera passa sotto l'Italia che peraltro quello che voi vedete come forma bianca è il mar Mediterraneo però appunto quindi ci sono tutte le terre confinanti che danno forma a questo mare però poi appunto quella più riconoscibile rimane l'Italia non solo perché ci passa dietro la banda nera perché è lo stivale quindi lo stivale diventa una forma assolutamente riconoscibile particolarissima questa forma allungata io lo dicevo ieri sera ho lasciato l'inverno per trovare qui questa estate magnifica sono molto contenta e là vi assicuro Torino novembre e questo però non è solo un manifesto ma è un vero proprio tavolo un tavolo specchiante perché appunto Michelangelo Pistoletto è noto per i suoi lavori specchianti perché è lui stesso che dice che nel momento in cui è passato dalla pittura che però già si stava andava ad astrarre perché lui dipingeva sempre di più fondi oro con queste figure più o meno presenti al suo interno il fondo oro diventava sempre più specchiante quindi lui fa questo passaggio include il mondo in quello che è lo spazio dell'arte lo spazio della rappresentazione con superfici specchianti che poi diventeranno avere i propri specchi in questo caso il Mediterraneo quindi l'elemento acqua è evocato di nuovo appunto dallo specchio la superficie specchiante però è importante perché vedete che poi questi tavoli sono utilizzati per una serie di convegni di conferenze di incontri anche con personaggi che arrivano da tutto il mondo ci sono anche delle ciotole con del cibo che anch'esso arriva dai paesi del Mediterraneo proprio perché di nuovo nel convivio poi si vanno a scoprire anche quelli che sono i sapori gli odori i gusti e quindi quelle che sono le tante culture che anche lì è importante che rimangano che vivano e sopravvivono e sopravvivano ma che in qualche modo possono trovare un luogo di scambio e nell'opera appunto del tavolo di Love Difference del Mediterraneo la cosa interessante di nuovo sottolineare un po' anche come per i tavoli Mario Merz l'orizzontalità questa possibilità che poi intorno a un tavolo siamo tutti uguali e tutti abbiamo come dire la possibilità di diventare attori e quindi di essere presenti e quindi di poter appunto esprimere ciascuno il proprio pensiero o la propria posizione e anche scambiare il proprio pensiero o la propria posizione quindi vedete che c'è questa interazione peraltro sono bellissimi questi tavoli noi li abbiamo portato perché zona arte come secondo anno è dal 2011 che è invitata anche ad Artissima Artissima è questa fiera internazionale che si svolge a Torino i primi giorni di novembre ma la cosa particolare è che appunto in una fiera d'arte dove i valori dell'arte hanno anche ovviamente se non una fiera commerciale sono economici la fiera anche lì si sensibilizza e porta all'interno del suo essere appunto fiera d'arte un progetto culturale quale quello di zona arte abbiamo avuto il tavolo delle differenze di Michelangelo Pistoletto è stato bellissimo perché come potete già vedere le sedie sono tutte diverse non ce n'è una uguale arrivano anche loro dal Mediterraneo hanno fatto dei viaggi e sono alcune veramente imperiali altre invece sono dei puff ci sono i tappeti ce ne sono più appunto anche accomodanti mi vorrebbe da dire e quindi è bello anche in quel senso perché poi chi arriva si siede non c'è una sedia che viene tenuta da parte per chi è più importante quindi anche in questo senso ci si può tutti accomodare molto democraticamente intorno al tavolo delle differenze quindi vedete che poi le disposizioni sono sempre diverse le sedute anche e le situazioni a quel punto anche noi abbiamo realizzato le nostre tavole tra virgolette rotonde in artissima due anni fa appunto intorno al tavolo delle differenze l'anno scorso invece grazie a Beatrice Merz della fondazione Merz siamo stati intorno a questo tavolo invece molto spigoluto ma anche quello molto bello di Mario Merz vedete che qui continuiamo ad avere invece in questo caso areso specchianti i territori intorno a questo che si crea come vuoto che è il famoso mediterraneo che invece poi si riempie di senso e questo è Michelangelo Pistoletto che invece in piazza del plebiscito aveva portato appunto questo lavoro legato appunto all'Italia in piazza in cui le terre erano sopraelevate perché le persone si potevano proprio sedere potevano utilizzarlo e quindi starci dentro e vedete che sullo sfondo c'è giusto l'Italia il famoso stivale che noi abbiamo preso in considerazione come ha fatto Luciano Fabro per molti anni anche perché appunto lui ha avviato questa ricerca che però non era solo legata alla forma geografica ma come ci dice lui per aprire questo dibattito sul nostro paese senza partire da giudizi senza dimenticare che attorno alla piazza nasce la città e attorno alla città nasce la mentalità e questo mi sembra di nuovo importante come contenuto lui ce lo dà come dire oggi sembrerebbe datato perché stiamo parlando qui di una frase degli anni 70 ma è assolutamente attuale perché dall'Italia poi insomma si passa all'Europa e si passa al mondo questa è una dell'Italia l'Italia all'asta sempre di Luciano Fabro peraltro in piazza del plebiscito all'asta appunto in tutte le sue accezioni ovviamente perché è simbolo e quindi bandiera ma è anche all'asta perché la possiamo la svendiamo continuamente però è specchiante però ce ne sono due di nuovo nella possibilità quasi da braccio tra nord e sud e in questo senso è molto bella molto significativa tenete conto che peraltro piazza del plebiscito che è stato appunto largo di palazzo fino al 1860 si chiama del plebiscito perché grazie all'unità d'Italia lì è stato fatto uno dei primi plebisciti per decidere che insomma quest'Italia doveva essere unita l'Italia ha un'immagine a forma un simbolo grafico le tante elaborazioni sulla forma geografica realizzano ritratti per scoprire la natura più profonda di ogni singola Italia in relazione all'argomento trattato e questi sono banalmente alcuni dei titoli di queste Italie che lui aveva realizzato quindi questi sono i titoli poi l'Italia le ha anche realizzate ma sono già indicativi tutta d'oro peraltro quella tutta d'oro di solito la mette la pende a testa in giù qui Latin l'Ori tale appennello da guerra del dolore dei papi del feticcio speculum itali insomma sono belle diverse anche divertenti noi però appunto anche in quel caso avevamo lanciato un appello diciamo nel senso che abbiamo chiesto alle persone di non portarci le Italie perché abbiamo capito che poi non sapevamo tanto dove andarle a collocare ma abbiamo chiesto appunto abbiamo fatto un progetto anche nel web abbiamo chiesto di elaborare le tante Italie ciascuno rispetto al senso e all'idea che voleva dare quindi mandarle nel web abbiamo realizzato anche noi un po' di esempi per dare un po' l'idea e quindi qua ci sono un po' di tante Italie peraltro alcune di queste Italie il Comitato Italia aveva usate per la campagna nazionale quindi che non centrava solo il nostro progetto ma era proprio la campagna sull'idea dell'unità d'Italia del cibo l'Italia appunto tutta d'ora in omaggio a Luciano Fabro l'Italia dei nostri boschi mi veniva da dire l'Italia tutta rosa le famose quote rosa di cui si parla stamattina molto discusse potrebbero aprire dei dibatti l'Italia interculturale l'Italia appunto del del testo e questa è la nostra rete non so neanche se poi l'abbiamo aggiornata più di tanto ma già mi sembrava una buona base per dare un'idea di tutti i soggetti che man mano sono entrati all'interno del progetto tenete conto che appunto ciascun soggetto ha avuto voglia insieme a noi di capire la fattibilità di quel singolo evento perché ovviamente partendo da un budget che non c'era bisognava capire se c'erano delle risorse in loco se bisognava trovarle se al di là delle risorse economiche invece avevamo la possibilità di avere persone che ci davano una mano materiali quali potevano essere le specificità di quel territorio per realizzare quella data quella precisa Italia quindi noi abbiamo fatto questo lavoro anche di contrattazioni e di messa a punto nei singoli luoghi e poi le abbiamo man mano realizzate quando ci siamo detti appunto che noi nel 2000 siamo partiti in anticipo anche perché erano tante quelle da fare nel 2009 nello start up in piazza San Carlo a Torino che è una piazza bella grande importante molto sabauda abbiamo realizzato questa Italia in questo caso poi appunto ci siamo detti beh però l'Italia non può essere completa se non invece fatta visualizzata da chi ha realizzato queste grandi azioni di pittura quindi ci abbiamo messo sopra sì c'è il bimbo lì piangeva lo dico piangeva ma abbiamo cercato anche di spostarlo abbiamo detto ma non ti preoccupare non è che devi stare lì per forza da solo abbiamo cercato di togliere ma lui a quel punto si era impuntato lì voleva stare ma non impugna alla fine anche lui ha partecipato gli altri erano tutti in festa però lui è rimasto lì però insomma ci sta tutto ma anche giusto che sia uno si doveva sacrificare e la maestra deve aver trovato quello sbagliato avevamo tante Italie perché noi quel giorno abbiamo ospitato in questa piazza 4.000 persone tra piccoli medi e grandi 4.000 persone come primo evento devo dire che è stato impegnativo avevamo sia delle Italie da unificare sulle grandi strisce di appunto di azioni di pittura e anche lì perché sono grandi ciascuno ha visto la sua striscia ha visto il suo pezzo sapeva che doveva dare quel colore nel momento in cui tutti abbiamo dato il colore abbiamo poi unificato quest'Italia perché le strisce le abbiamo avvicinate e l'Italia è comparsa e apparsa quindi se da subito avevano più o meno l'idea perché sapevano che insomma quello stavamo facendo ma la percezione poi finale quindi l'idea di unificare l'Italia ce l'abbiamo avuta perché l'abbiamo fatto realmente è chiaro che le strisce devono stare distanziate per questioni anche pratiche perché intorno alla striscia di pittura dovevano stare tutti e anche tanti ma dall'altra parte appunto era importante poi fare questa azione insieme a loro di nuovo corale di nuovo partecipata per far apparire questa Italia ecco qui c'è Anna che ci saluta vicino alla Puglia perché appunto Michele Dottavio che è il nostro fotografo in quel caso appunto ha detto Anna però mostra la tua regione quindi vedete che siamo anche proprio giusti peraltro quest'Italia è anche lei molto centrata nel periodo storico perché appunto se da una parte avevamo l'azione di pittura per visualizzare l'Italia e dall'altra parte invece avevamo questa Italia suddivisa in regioni dove ciascuno l'ha realizzata con questa tecnica che era quella appunto del puntilism che è una tecnica appunto che nasce proprio mentre come dire il dato storico in Italia ci diceva che noi stavamo unificando l'Italia quindi in 1860 il suo periodo storico e noi abbiamo voluto anche ricontestualizzare questa che non era soltanto ovviamente una tecnica ma diventava di nuovo una possibilità in più di percepire il mondo alla realtà e soprattutto di trasferirlo come esperienza artistica in realtà prima della piazza siamo state in Artissima qui ospiti non erano tanto convinti infatti ci hanno dato un corridoio non è andata bene perché c'era molto passaggio era nove invece siamo congelate però è stato molto bello perché ci ha scaldate ci hanno scaldato le persone perché si sono fermati in tanti sono fermati i giovani artisti si sono fermati sono fermate le famiglie perché in realtà poi è molto visitata anche dalle famiglie la signora che vedete che è seduta chinata era proprio una tessitrice non ci poteva credere che passando per casa una fiera d'arte avrebbe potuto come dire dare il suo contributo e intessere questa prima Italia e quindi è stato insomma anche lì partecipato assolutamente e quindi si è dato senso all'azione qui siamo a San Giorgio a Cremano appunto Marciapiede e San Giorgio a Cremano dall'altro lato del Marciapiede c'è Napoli peraltro appunto qui è stato importante realizzare quest'Italia e non ve l'ho parata tutte 150 lo dico però ci sono tutte ma giusto perché così alcune poi le commenterò di più altre meno però era importante a San Giorgio a Cremano anche perché loro hanno un assessorato che si occupa anche del gioco peraltro sono molto attivi mi arrivano costantemente anche loro organizzano molte formazioni convegni quindi nella famosa rete poi diventa anche interessante sapere che a San Giorgio a Cremano credono molto nella possibilità appunto che poi il gioco porta la sua cultura e il suo contributo e quindi vedete che l'Italia galleggia su un mare di giochi e di giocattoli ricordandoci anche un pochino i quadri di Alberto Savinio e però appunto è bianca l'abbiamo proprio dipinta di bianco non è solo il fondale della tela proprio perché appunto ci piaceva far vedere che quell'Italia è pulita perché quelle persone visto che San Giorgio a Cremano è tristemente nota per fatti di cronaca anche pesanti e ci faceva invece piacere far vedere che quelle persone invece quell'Italia vogliono e quell'Italia vivono insomma quindi in questo senso è bianca qua invece siamo al festival del contemporaneo a Faenza e anche questa Italia è stata realizzata in una giornata in un pomeriggio e anche lei è bella ed è in tessuta ed era enorme quando abbiamo tirato fuori abbiamo detto non ce la faremo mai invece ce l'abbiamo fatta e vabbè qui siamo a Carasco qua invece siamo a Verona in Piazza delle Erbe è passato il mondo perché i veronesi passavano ecco poi si fermavano un po' guardavano poi riuscivano a tirare lì il mondo però si è proprio fermato quindi quest'Italia è stata particolare perché l'ha realizzata il mondo l'ha realizzata persone le più diverse dalle tante provenienze molti extracomunitari che abitano anche a Verona con tutte le difficoltà del caso e noi peraltro siamo andati molto cauti perché abbiamo fatto subito questo tappeto verde eravamo a Verona abbiamo detto andiamo sul sicuro se passa il sindaco non ci può dire nulla poi però abbiamo aggiunto le margherite bianche e i papaveri rossi perché ci piaceva appunto fare questo omaggio alla bandiera ai colori della primavera e tutto quello che ci vogliamo mettere anche lì da lì appunto da Piazza delle Erbe ci siamo un po' spostati e siamo andati fino all'arena perché ci piaceva anche di nuovo fare questa azione corale è sempre bellissimo vedere queste itali che si sollevano sono portate dalle persone e qua siamo in San Salvario e quindi loro sono le persone con cui lavoriamo da sempre nel quartiere col progetto del tappeto volante del tappeto volante per una pubblicazione esiste questa magari appunto ve la mandiamo e ovviamente con loro visto che il tappeto non è solo una metafora ma è anche un elemento reale con loro non poteva che essere realizzata intrecciandola dei tanti tessuti queste Vercelli quindi terre d'acqua ma a Vercelli c'è la fondazione Guggenheim e c'era la mostra di Delonay quindi c'è sullo sfondo questa immagine che peraltro in quel periodo era un po' ovunque soprattutto a Torino ma era veramente ovunque per pubblicizzare la mostra e quindi diventava in quel momento veramente l'Italia non poteva che essere così l'Italia di Vercelli e vedete che poi tutte le volte abbiniamo anche al monumento e c'era una scoperta del territorio sempre nuova qua abbiamo un'Italia adesso c'è proprio un vuoto tremendo mi uccideranno a Murazzano siamo a Murazzano dove tutti gli anni fanno questa fiera legata alla tuma al formaggio e quindi quest'Italia è fatta di tume ovviamente sono in gomma spugna quindi evochiamo le forme che però fanno parte appunto delle risorse del territorio poi però questo è un palazzo storico molto bello sul quale abbiamo appeso alcune delle Italie realizzate in occasione del 150esimo è una cosa che si fa tutti gli anni ma noi l'abbiamo scoperto appunto quando abbiamo realizzato le 150 Italie c'è l'inaugurazione dell'anno scolastico che è una vera e propria trasmissione televisiva condotta tipo da Fabrizio Frizzi a Roma dove vengono però invitate le classi le eccellenze del territorio nazionale quindi tutti gli anni comunque c'è una rappresentanza da tutte le parti d'Italia e vengono mostrate attraverso questa trasmissione noi siamo stati invitati quindi per il 150esimo e in occasione del 150esimo hanno deciso dalla RAI di fare una diretta in tre luoghi quindi nord centro e sud qui siamo alla Venaria Reale quindi per il nord si è scelta questa location e vedete che l'abbiamo realizzata con i ragazzi qua invece siamo a Napoli e a Roma l'abbiamo fatta dentro dentro il palazzo del Quirinale ci hanno anche detto che Napolitano si era affacciato non l'abbiamo visto ma il primo adesso il secondo eccoci qua qua siamo invece dentro il Quirinale quindi è stata anche una bella esperienza perché insomma questo in realtà è lo schermo di Napoli che fa vedere l'Italia di Roma perché poi c'era anche la possibilità nei diversi luoghi di vedere la contemporanea quindi è stato è stato simpatico perché ovviamente abbiamo dovuto fare un po' di regie abbiamo dovuto che fare un po' così con questi operatori per noi era un'esperienza nuova ma è andata molto bene e qua siamo a Saluzzo e quindi questa è un'Italia piena perché loro ci hanno fatto un elenco lunghissimo di tutte quelle che erano le cose importantissime che vivevano nei territori di Saluzzo e quindi dal kiwi alla gallina alle mele ai monumenti ma giustamente quindi però abbiamo pensato a questa bulimia di un territorio dove peraltro invece poi c'era la volontà anche di farlo diventare un territorio legato all'algezza alla musica quindi di dare anche questa caratteristica a questo territorio allora abbiamo deciso alla fine di farla blu perché il blu appunto ricorda le vibrazioni il suono è usato spesso dagli artisti per tutto ciò siamo stati anche negli ipermercati qui non è per fare la pubblicità l'ipermercato uno specifico ma per dire che poi i luoghi possono essere tutti la piazza che la Gorà luogo dell'incontro del confronto può essere veramente come dire il luogo anche il più impensato per portare la cultura in quei luoghi che solitamente invece sono non solo di passaggio ma dove i contenuti sono completamente altri diversi unimanagement appunto in one4c avevamo i manager di unicredit da tutta Italia che si trovavano a Torino per fare un punto da situazione e una formazione a cui abbiamo fatto realizzare tre italie le abbiamo poi portate di nuovo nella piazza di notte perché le azioni con loro le abbiamo fatte nel tardo pomeriggio e poi così abbiamo detto va bene se nessuno ci multa o ci arresta prima facciamo questa azione occupiamo questo solo pubblico per appropriarci appunto come dire in questo momento una è tutta rossa in omaggio ai colori dell'unicredit una era tutta dorata non d'oro dorata proprio perché appunto si parla di valori che non sempre sono quelli materiali e una era trasparente nella possibilità che ci dovremmo dare anche quando si parla di economia di chiedere la trasparenza quindi di essere abbiamo ospitato anche Caterpillar loro sono bravissimi potentissimi perché appunto il 18 febbraio del 2011 la puntata di M'Illumino di meno chiedeva ai sindaci d'Italia appunto che cosa facevano come loro fanno e però si sono riuniti tutti al castello di Rivoli questi 150 sindaci in realtà erano anche di più siamo state contente anche perché noi eravamo in esterno peraltro sono arrivate le persone ma non abbiamo fatto collegamenti streaming o altro perché appunto non era previsto e noi sotto però abbiamo creato un'Italia c'era anche la banda Osiris che animava vedete le persone poi sono accorse sono venute volevano partecipare forse anche per ascoltare infatti hanno ascoltato comunque la trasmissione e noi avevamo approntato un'Italia di regioni il colore dato alle singole regioni in realtà è un materiale sono plastiche riciclate colorate suddivise appunto nelle tante cromie e ogni colore definisce una regione vedete poi però le abbiamo allontanate le abbiamo di nuovo scisse perché poi man mano scendevano a turno i vari sindaci ciascuno unificava la sua regione di appartenenza diciamo e quindi adesso non so se ho l'immagine ma avevamo proprio la zoomata del sindaco di Bari c'è Anna Anna Pironti la signora con la sciarpa c'è Amilcaria Cerbi che è un amico di un pedagogo di Piacenza con cui continuiamo a lavorare e vedete che stanno unificando appunto la Puglia all'Italia mi illuminò di meno quindi man mano si faceva anche sera e noi l'abbiamo circondata da appunto questi lumini e quindi è il fuoco e la fiamma che tiene viva illuminata l'Italia quindi un gesto di nuovo semplice le persone hanno posizionato i singoli elementi intorno a questa Italia assolutamente sostenibile perché appunto fatta di plastica riciclata che a quel punto però le plastiche erano bellissime perché sembravano elementi preziosissimi a colorare questa Italia cavaller maggiore in omaggio alle rose del luogo anche qui appunto subito sembrava che non l'avremmo mai potuta realizzare perché non c'erano le persone in realtà erano tutte dovevano tutte uscire dalla messa finita la messa si è riempita la piazza in un attimo abbiamo realizzato questa Italia sempre nella magia appunto di averla prima disunita e poi unificata le piazze come vi dicevo sono tutte siamo anche andate a fare disastri in Palazzo Vecchio grazie alla Paola Pacetti che è un'amica che è appunto il direttore del Museo dei Ragazzi che vive nel Palazzo Vecchio lei ci dona la sala dei 500 per fare a volte delle attività e in questo caso lei nello specifico ci aveva chiesto di lavorare sulle parole dell'inno d'Italia quindi noi sempre con il nostro alluminio che non abbandoneremo mai più perché nel 2005 l'abbiamo incontrato al Festival di Mantova per realizzare il primo terzo paradiso Michelangelo Pistoletto l'alluminio che noi abbiamo in bobine lungo qualche centinaia di metri appunto lo facciamo diventare da lamina a cordone e quindi col cordone possiamo anche scrivere abbiamo anche un percorso al museo che si chiama la parola prende forma proprio perché effettivamente poi le parole sono cose spesso gli artisti le usano per visualizzare i loro pensieri ma poi diventano veri e propri oggetti quindi con l'inno d'Italia che abbiamo anche poi cantato con le parole abbiamo dato forma a questa Italia eravamo all'interno e non pioveva poi abbiamo deciso ma giustamente perché volevamo condividerla in esterno l'abbiamo portata fuori e poi è iniziato a piovere ma l'alluminio non patisce e anche in questo caso abbiamo fatto un'occupazione di suolo dove però anche i vigili erano interessati si sono fatti dire che cosa avevamo realizzato e perché e quindi non solo non ci hanno mandati via ma ci hanno aiutati a far sì che le persone potessero guardare il lavoro senza passarci sopra anche al castello di Rivoli anche lì purtroppo pioveva ma a questo punto siamo entrati tutti dentro avevamo tutti i ragazzi con cui noi lavoriamo quotidianamente durante tutto l'arco dell'anno per il progetto impara l'arte appunto della convenzione che vi dicevo prima e da quella convenzione ne sono nate tantissime altre su territori ovviamente che non sono solo quello rivolese ma a quel punto limitrofi ma diversi e tanti e quindi vedete che anche in questo caso con tutti gli elementi che contraddistinguono la città abbiamo proprio fatto questa celebrazione però di nuovo poi l'abbiamo unificata e abbiamo dato senso e quindi l'abbiamo riportata al contemporaneo questa celebrazione storica a Sant'Antonino questa cosa è stata significativa perché in questo caso vedete che peraltro a Sant'Antonino di Susa ci sono anche molti bimbi extracomunitari gli stracci in questo caso stavano dentro l'Italia ma che in quel caso era il vuoto perché noi abbiamo portato il mare e hanno poi intrecciato il mare qui ovviamente insomma è la parte prima poi tutti hanno realizzato quindi si è svuotata si è svuotata l'Italia ma non per togliergli senso ma proprio perché di nuovo appunto nella sua assenza l'hanno visualizzata l'hanno hanno reso come dire appunto più concreto questo loro essere italiani a Traves abbiamo portato l'Italia che avete prima visto in Caterpillar perché erano pochissimi era una pluriclasse avrò avuto 12 bambini e ho festeggiato con loro il giorno il 17 marzo quindi giorno dell'unità d'Italia ed è stato bellissimo perché è una comunità molto piccola col sindaco gli assessori e io abbiamo parlato ci siamo detti delle cose ci siamo anche proprio emozionati abbiamo reso reale concreto questo giorno il consiglio regionale ci ha dato la possibilità di esporre questo nostro progetto nella notte bianca e quindi noi l'abbiamo abbiamo realizzato delle tali in tessute sembrano molto francesi ma in realtà sono i colori della bandiera del gonfalone della regione Piemonte però ci stanno insomma e però appunto come dire di nuovo abbiamo potuto realizzare le tali e abbiamo partecipato a questo evento ma abbiamo anche esposto tutto il lavoro che man mano viene documentato e che quindi diventa anche un tessuto di per sé a Sanremo un'Italia di fiori ovviamente la particolarità di questa Italia è che si realizza nella Sanremo Vecchia infatti esiste l'associazione Pignamon Amur che vi segnalo che sta cercando di rendere viva questa parte che peraltro è bellissima di Sanremo che è la meno conosciuta che vede convivere molti personaggi che arrivano anche dal sud Italia a oggi vede anche molti extracomunitari e quindi c'è questo discorso di appropriazione di un luogo di convivenza di questo luogo di tutti questi cittadini e quindi loro fanno una serie di azioni corale collettive anche insieme a noi per portare la cultura la cultura contemporanea e per far sì che le persone poi escano di casa e banalmente capiscano che appunto non è tanto un problema di provenienza ma di condivisione questa è l'Italia completa terminata finita che anche lei poi è andata in processione anche qua ho inserito questa cosa quando si diceva prima la parola prende forma Sanremo è famosa per il festival della canzone italiana abbiamo pensato che sul fuori festival di coinvolgere le persone che solitamente vanno lì e stanno tutta la giornata per vedere passare forse un cantante infatti una l'abbiamo vista che era Noemi peraltro piccolina quasi invisibile se non fosse stato per il capello però appunto noi eravamo impegnati comunque magari qualcun altro è passato ma noi non potevamo accorgercene perché a quel punto abbiamo pensato di usarlo questo festival perché comunque la canzone italiana fa parte un po' della storia di tutti noi volenti o nolenti e quindi abbiamo chiesto alle persone quali erano i titoli che si ricordavano del festival e abbiamo chiesto loro di scriverli abbiamo chiesto anche loro di cantarli abbiamo chiesto anche loro c'era peraltro un furgone di una radio di fianco che trasmettevano in diretta che hanno iniziato appunto a dire ma qui forse c'è l'accademia e il liceo hanno iniziato a dare notizie un po' confuse su quello che stavamo facendo perché poi a rischio della vita è sceso dal capo che sono andata a bussare la porta e dire scusa se vuoi ti spiego cosa stiamo facendo e così l'abbiamo potuto anche dire nell'etere che stavamo facendo un'azione culturale all'interno appunto all'esterno anzi del festival ed erano coinvolti anche molti ragazzi della città del liceo che c'è appunto a Sanremo e quindi è stata di nuovo un'azione corale partecipata peraltro abbiamo realizzata in questa piazza che voi vedete che ovviamente solitamente è un parcheggio perché di nuovo è importante noi il lavoro dell'Italia è stato importante perché molte piazze che erano diventate parcheggi che era diventata la famosa piazza tenuta lì per il giorno del mercato e poi appunto di nuovo parcheggio sono tornate ad essere piazza e questa piazza in questo momento è occupata da un terzo paradiso fatto di piante e fiori dei appunto vivaisti di Sanremo grazie al progetto con Michelangelo Pistoletto e quindi da qui abbiamo iniziato a dire guardate che questa era una piazza non era un parcheggio e da lì però le parole le abbiamo trasportate poi davanti vicino all'Ariston per dare appunto di nuovo per completare il percorso ma da qui poi le abbiamo portate anche su verso la pigna vedete i cordoni d'alluminio che anche li chicca se dice non stringeteli troppo perché se no poi si spezza e salire alla pigna è impegnativo nel senso che bisogna anche poi salire vedete proprio arrampicarsi nei vicoli poi si arriva alla piazza e c'è il momento della festa questa è l'Italia l'Italia di Ivrea appunto Olivetti la scrittura la macchina da scrivere i caratteri tipografici quindi abbiamo fatto questa Italia con questo materiale che peraltro noi recuperiamo è l'aminil che ci dà una ditta che appunto produce questo materiale che è un materiale da coibentazione a un lato specchiante e quindi è magico perché ovviamente serve molto ai nostri alle nostre esperienze alle nostre azioni in piazza e quindi questa Italia vedete portano i corpi i corpi tipografici anche lì perché poi il corpo è sempre presente la persona è sempre presente anche poi in tutto quello che è il nostro linguaggio in tutto quello che poi appunto è anche una trasposizione del linguaggio in segno grafico abbiamo anche realizzato l'Italia alla moda a Milano non poteva che essere a Milano l'Italia alla moda anche perché era nella settimana della moda quindi a maggior ragione ed era un'Italia preziosissima perché nonostante che questi erano tessuti recuperati erano molto belli molto preziosi dei nastri di raso con dei colori sfavillanti anche qui abbiamo sfilato avevamo una piazzetta che abbiamo dovuto cercare sulla cartina non sapevamo ne che esistesse a Milano e però poi ci siamo fatti questa passeggiata passando più o meno inosservati fino a piazza Duomo perché ufficialmente non ce l'avevamo ma ce la siamo presa diciamo e quindi di nuovo in processione questa è l'Italia di jeans e questa e questa e questa anche in Italia è stata bellissima perché siamo a Napoli qua siamo nella galleria e poi però anche lei l'abbiamo intrecciata in galleria ma meno male perché era meno dispersivo siamo riusciti a lavorare meglio con le classi vedete tutti distribuiti stanno intrecciando i sacchetti dell'immondizia colorati perché abbiamo pensato che visto che Napoli appunto peraltro in quel periodo particolare era proprio il periodo dei servizi di Napoli si vedeva solo immondizia cioè Napoli e l'immondizia erano costantemente associati visto che noi è un territorio che conosciamo abbastanza bene sappiamo che di cose se ne fanno anche tante e anche a livello culturale che quindi appunto questa continua associazione stava diventando veramente un'immagine deturpante in tutti i sensi allora abbiamo pensato di intrecciare proprio quegli elementi che stavano diventando l'incubo di questa città perché c'era questa associazione per diventare invece l'elemento di bellezza perché diventava la risorsa di quella Italia cioè ripartire dal basso più basso da questa idea appunto di scarto di immondizia di essere sommersi per invece capire che poi c'è sempre un modo poi di far trasformare la materia in risorsa e quindi in questo caso appunto peraltro la parte della della campagna l'abbiamo intessuta vedendo a nodo quindi abbiamo fatto questa sorta di tappeto l'abbiamo intessuta in maniera diversa proprio per enfatizzare quel territorio nello specifico e lì ovviamente poi eravamo in piazza del plebiscito sono le undici e mezza volete fare perché qui comincia un'altra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti